E intanto bisogna cominciare a vedere che cosa succede adesso in lunetta anche perché così come era stato per il caso di Blair in precedenza c'è stato un minuto di sospensione durante il quale Ruben Douglas ha potuto pensare al fatto di dover andare in lunetta Ruben Douglas veramente ha molto peso sulle spalle adesso qui anche se fa questo almeno uno vediamo cosa succede è comunque sparigliato il risultato, un punto di vantaggio per Milano che però non può chiudere con la palla in mano 30 secondi alla fine, 22 adesso per l'attacco milanese che nelle mani di Sasha Giorgiovic contro Gianluca Basile vuole comunque lavorare con il cronometro, la formazione di Lino Lardo mancano adesso 11 secondi, è pronto Meccallo alla ricezione è pronto Blair al pick and roll, ultimi 5 secondi ancora Giorgiovic apertura per Calabria, il tiro dal 3 di Calabria non va, il rimbalzo per Basile, ultimi 3 secondi Basile deve prendere il tiro, ci prova Douglas allo scadere ed è una tripla, ed è una tripla segnala Luigi da Monica che il tiro non vale io presumo che possa esserci l'intervento dell'instatreplay e così è, si va a vedere se la tripla di Ruben Douglas è stata scoccata ancora entro i 24 secondi o meno finale con il trilling, un finale che potrebbe attribuire lo scudetto alla clima mio se il tiro fosse partito nei tempi giusti se così non fosse si vaghera 5 la tensione sul volto di tutti i giocatori che aspettano l'esito dell'instant replay momento di tensione mostruosa vediamo l'indicazione da parte dell'arbitro che giustamente allontana tutti coloro che non fanno parte della terna e che non dovrebbero essere lì ad osservare un momento talmente importante tutta la mia vita io non ho mai visto una finale così, mai veramente, è un finale pazzesco e guardate i giocatori, guardate i volti dei giocatori è impressionante vedere c'è chi prega, c'è chi ha le mani in faccia e arriva, la conferma, il tiro è buono il tiro è buono e Bologna è il campione d'Italia